Il mestiere faceva, era un monaco, e dato che sapeva dell'inquisizione, ha scritto la sua teoria di modernità, cioè che il sole girava, e la cara girava verso l'osso, ma non l'ha pubblicato, perché non l'ha pubblicato, ma vivo, lo avrebbe costretto a distruggere la sua teoria, allora, la lasciata lì quando è morto, e nessuno morta, è chiaro? Allora, sicuramente quando si è accorto, prima è coperto, andiamo molto attenti, però, perché la cabica leggermente posteriore a Cristofolo Colombo, Cristofolo Colombo era un navigatore, genovese forse, non ci sono le prove che si è ricevuta, ci sono prove che da Cadice, da Siniglia, da Spagna, da Roma, perché era un mercenario, eh? Lavorava, sia per il regno di Stagna, sia per il portonello.